Ciao, sono Alfonso e in occasione della Festa Repubblica vi leggerò l'articolo 10 della Costituzione Italiana. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolato dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale si è impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilita la legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. In quest'articolo la nostra nazione si impegna a rimanere all'interno della solidarietà internazionale attraverso l'emanazione di norme coincidenti con le norme del diritto internazionale. Nel secondo comma viene determinata la condizione giuridica dello straniero, che è regolata la legge secondo le norme e i trattati internazionali. Nel nostro ordinamento esistono attualmente due categorie di stranieri. I cittadini dell'Unione Europea, che godono di una tutela di garanzia simili a quelle del cittadino italiano, e i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, che possono essere soggetti a restrizioni per quanto riguarda l'ingresso e la permanenza del nostro Paese. Nel terzo e quarto comma la Repubblica Italiana garantisce a tutti i cittadini stranieri, ai quali sono stati negati i diritti e libertà democratiche nei loro Paesi, di poter esercitare tali diritti nel territorio dello Stato italiano, grazie al diritto d'asilo. L'ultimo comma prevede poi che nel nostro Paese non sia ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici, ovvero quelli commessi in opposizione a regimi antidemocratici, in cui vengono attuate politiche persecutorie nei confronti dei diritti umani. Viene invece escluso il diritto di genocidio. Ecco, quest'articolo mi è anche personalmente molto caro. Sono figlio di emigrati che andarono a vivere in Gran Bretagna, sono nato all'estero, sono nato in Gran Bretagna e sono stato accolto in quel Paese con i stessi diritti dei cittadini inglesi. Allora, per fortuna, era così. Oggi le cose purtroppo stanno cambiando. Sappiamo che la Brexit rischia di togliere ai cittadini italiani che vivono in quel Paese i diritti di cittadinanza europea e rischia anche di togliere ad altri cittadini la cittadinanza e la possibilità di essere, appunto, di vivere e di lavorare in ogni Paese. Per questo, grazie alla nostra Costituzione, ancora si può sperare bene. Buona festa della Repubblica.